mandi mandi ad oggi benvenuti a quelli liberi secondo me cacarate per me vuoi avere una delle trasmissioni più importanti perché alle rappresentante numero un dalla lingua furlane il presidente dell'arles ferros cisilin grazie mandi ad oggi mandi ad oggi grazie per questo compliment che nome al merti il numero il numero un per la lingua furlana del popolo furlano riguarda essere sempre no poi cacarare in chiedicato no allora come tu sei entrato a l'arles come presidente il direttore al william no che ormai a neurones che lo conosce e che hai con lui sempre anche il che mi ha insegnato tanti ai roboti spartina disi pace con che si va inglesi e l'importante il segno di pace no e lo facciamo e allora il programma che tu ti sei fatto sull'arles quale ma sostanzialmente che recupera i jovins i jovins stanno disini un po che si stanno raggiando tanti poi di ciò che potrebbero fare no quando erano insomma dalla loro età però è una maniera di raggiungerci che avrebbero anche in qualche maniera alimentata no cioè bisogna dare che strumenti usci che potrebbero anche far crescere ecco la loro capacità di doprar il furlane e di conoscire la loro lingua la loro lingua sì che ha le altre importanti sono radduto per loro ecco allora ero se hai fatto questo spot no che dipende di noi dunce esattamente questo sarebbe il messaggio il messaggio è quello che è il messaggio di tutta la campagna pubblicitaria che ha avuto insomma non nomi li resta televisivi ma anche per di la carta stampata gli autobus no e l'isradio è solo dovuto anche i social media che arrivano dai telefonini massimo dalle nuove generazioni se che facebook instagram arriva di poi ecco e vigno tutti ma come al di là dai posti che arriva mancù il slogan che vengono a doprar la frase che vengono a doprar tale al dipende di no al dipende di te perché che in realtà sta proprio lì il fatto che una si impegni e che è responsabilità ti chiesto se la lingua va in davanti o se è morto come fare un esempio che possiede magari ecologico noi vediamo tante volte che capita purtroppo che una specie animale assiede in rischio di estinzione e facendo di tutto per salvarla sono anche lì no mille post sui social network mille fotografie sale il telegiornale calciacara ma nessuno ha il dis non qualche una lingua ormai accorre il rischio di morire qual è il problema della lingua non è meramente displace dopo un italianismo ma non è il nome il fatto che al morire il codice linguistico ma morire la coscienza del popolo come che diceva Yeats la lingua è avere l'autentica coscienza del popolo che contiene i termini che si riferiscono alla cultura e alle tradizioni se un popolo che diceva Yeats ha chiamato un altro codice linguistico e ha dismentato il suo ciò non mai potrà dopo prendere la sua identità e che lei pensa che la campagna è diventata l'arla e quando aveva fatta una già tre anni fa era una campagna mirata alle famiglie qualcuno che torna a dire sono il veicolo principale insomma di trasmissione della lingua però la campagna qui è un po' più slargiata e arriva sui anche individuos tali immagini si vede anche le famiglie in realtà però l'individuo ha la sua responsabilità a partire davanti ecco la sua lingua la lingua dal suo territorio morire la lingua a morire anche tanti valori valori pratiche lo diceva in un certo ruolo sì, non stiamo iniziando a capire di cose che non si capisce ci sono di cose talmente di teore valori pratiche non so mai che torna di casa i ragazzi come non diceva che c'è la stella però insomma non siamo lontano ormai con i team che accorgono bene, bene allora, vedi tutto, no? ma pensi di sia... a tutti i buoni catri e di contà sì, giusto, ecco, di dire ai nostri ascoltatori se hanno la possibilità o che passano dall'Arlev che è in via della prefettura numero 3 di Sauden o se no, poi in là su, sì, dall'Arlev e lì ha chiesto in tutta la panoramica di cicale l'ambiente furla, no? Cicapodding fa par conoscere la lingua tra l'altro assolutamente dalle cose che è un al post schiaria gratuitamente tutta la roba che viene è tutta gratuita è tutta data dalla region l'Arlev in realtà è un'agenzia regionale per cui, insomma, sostanzialmente si occupa in maniera operativa di diffondere sempre di poi la conoscenza dal furla e di promuovirlo però sul sito internet c'è anche il grande dizionario di lingua italiana furla che potete chiarire su questi telefonini e potete parlare per tutto e potete vedere anche qualche suggerimento diciamo che vengono infatti le sfrasi e diciamo che si scrive bene prossimamente stiamo già lavorando anche che è già addirittura l'arrivo probabilmente varia anche dei traduttori che saranno disponibili per lui quindi uno arriva anche a capire subito quella che possiede la traduzione dal italiano che per qualche lunga è la marilenga ovviamente che si può entrare al furla ma chi sta l'eco e pensi un risultato importante speriamo, insomma, che di vedere che il risultato è sufficiente che, insomma... e voglio imparare altre lingue il catalan, ad esempio il galese, no? e via in davanti bene, allora vedi tutti io i saluti in questi ascoltatori Furlan mandi a tutti mandi, mandi a tutti al dipendì me al dipendì me al dipendì me e di te al dipendù di te al dipendì no la lingua è vive se le facciamo vivi al dipendì no